Sono appena tornato dall'esperienza al Cairo con i tre ragazzi, con Flavio, Alice e Samir. Siamo andati a questo torneo per vari motivi. I principali erano per Flavio e Alice il tentare di prendere dei punti per raggiungere delle posizioni utili per entrare nei prossimi Australian Open. Devo dire che il risultato è stato centrato perché Alice con una finale riuscirà a raggiungere circa la centesima posizione. Flavio entrerà nei 200 e quindi con il taglio di fine anno dovrebbe riuscire ad entrare anche lui. Ancora siamo in attesa dell'entry list, però il risultato è stato raggiunto. È stata una bella esperienza anche per Samir che era il primo grado 3 che faceva. Ha passato un turno giocando una buona partita. Andare al Cairo è sempre positivo anche per il fatto che siccome le condizioni non sono quasi mai perfette è un modo per i ragazzi per imparare ad adattarsi anche a situazioni difficili. L'esperienza è stata positiva e siamo tornati con punti necessari e con buone partite alle spalle e giocate.